Il romagnolo Marcello Serafini ha battuto in due set 6-3-7-5 il figlio d'arte Iuliano Cleppo, aggiudicandosi la finale della tappa conclusiva del circuito Elavabruzzo, disputato sui campi del circolo tennis Prati 37 a Pescara. Per Serafini tra l'altro è gioia doppia, in quanto ieri, insieme con il rosetano Giorgio Ricca, ha vinto anche la finale del doppio. Sulla manifestazione sentiamo il vincitore e l'organizzatore Luca Del Federico. Diciamo che è stata una settimana praticamente perfetta, ho vinto sia singolo che doppio e in singolo sono riuscito a vincere senza neanche perdere un set, quindi posso riettermi più che soddisfatto. Sono stati comunque partiti difficili, anche se sono sempre riuscito a chiudere in due set, però sono veramente contento perché ho avuto una buona forza mentale, perché ci sono stati momenti di difficoltà durante il set, però sono riuscito a venirne fuori molto bene. Gli altri giorni magari ero un po' più nervoso, oggi sono riuscito a rimanere calmo dall'inizio alla fine e questo sicuramente mi ha aiutato perché lui, essendo un po' più nervoso, forse mi ha regalato qualcosa in più in momenti importanti e io sono riuscito a sfruttare bene le occasioni. Si conclude con la precisione, dopo sei mesi che abbiamo iniziato a Roseto, col challenger dell'inizio di questa lunga marcia cavalcata del tennis tour all'Ovo Abruzzo, sono stati sei mesi straordinari con ben cinque tappe internazionali, un evento unico su tutto il territorio nazionale. L'augurio è di rivederci nel 2023 con tornei altrettanto importanti, anzi di portare anche qualcosa di più, sia di qualità che di quantità, ponendo sempre l'Abruzzo al centro dell'attenzione del tennis nazionale.